Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Inizia il tempo di avvento, un tempo di grazia per ridestare il cuore e prepararlo alla venuta del Signore. Dal Vangelo di Domenica cogliamo due parole preziose per prepararci a questo incontro e vivere in pienezza il nostro quotidiano, vagliare e vegliare. Vediamo un po'. Gesù attraverso una similitudine ci fa capire che la nostra vita è un po' come un padrone che assegna un'autorità ai suoi servi, un'opera da compiere e al portiere dà il compito di vegliare in attesa del suo ritorno. Oltre a ricordarci la dimensione comunitaria dove ognuno ha la sua missione, il suo compito e il responsabile ha il compito di vegliare, di custodire, qui abbiamo l'immagine della vita di ciascuno di noi. A ciascuno di noi Dio affida un'opera da compiere, dunque una missione, segno del suo amore, della sua fiducia per noi, ma a ciascuno affida anche il compito dato al portiere. Il portiere di un palazzo che fa è attento a chi entra e a chi esce, fa entrare chi deve e non fa entrare il potenziale pericolo. Potremmo dire che il portiere è anzitutto chiamato a vagliare. Ecco il nostro primo punto, miei cari. Per vivere in pienezza ed essere pronti all'incontro con il Signore è importante vagliare, cioè discernere, accogliere le ispirazioni che vengono da Dio e respingere le suggestioni del maligno, scegliere non soltanto ciò che è bene, ma il meglio per ciascuno di noi, nelle piccole come nelle grandi cose. Prima di partire in quarta, distinto, chiedermi ma questa scelta, questo desiderio è secondo il cuore di Dio? Mi aiuta a servirlo di più e meglio? Mi aiuta ad amare di più e meglio gli altri? È una cosa che mi avvicina o mi allontana dalla meta? Una cosa lodevole o della quale mi vergognerei? Il portiere non solo deve vagliare, ma soprattutto è chiamato a vegliare. Basilio di Cesarea disse che cosa è proprio del cristiano? Vigilare ogni giorno e ogni ora ed essere pronto nel compiere perfettamente ciò che è gradito a Dio, sapendo che nell'ora che non pensiamo il Signore viene. Il verbo vegliare in greco ha a che fare con la lotta contro il sonno. Indica dunque chi ha uno spirito desto. Qui non si tratta di prendere 15 caffè al giorno, né significa non concedersi mai un attimo di riposo, si tratta di essere consapevoli, coscienti, presenti a Dio e a se stessi. Il cristiano veglia nella preghiera perché è in attesa del suo Signore, ha uno sfondo di bellezza. Avete presente cosa vive chi attende un amico che non vede da tanto? Chi attende la persona amata ma tarda ad arrivare? Chi attende il ritorno a casa di un figlio o di una figlia, magari nel cuore della notte? Chi attende l'esito di un esame? Ecco, tutto questo in un certo senso rientra nel senso del vegliare. Vegliare in attesa di Cristo, vegliare compiendo l'opera che ci ha affidato, vegliare in attesa del ritorno di colui che ci ama. Papa Francesco, in una delle sue udienze sul discernimento, ci ha ricordato l'importanza della vigilanza. Ci ha detto che vigilare serve a custodire il nostro cuore e capire cosa succede dentro, in modo che le nostre buone scelte possano proseguire in maniera perseverante e coerente e portare frutto. Mi cari, se al vagliare non segue il vegliare, io rischio di rovinare il discernimento, l'opera che ho iniziato. Qui non si tratta tanto di un pericolo psicologico ma di ordine spirituale, una vera e propria insidie dello spirito cattivo. Ho fatto una buona scelta, ho fatto un passo avanti nella vita spirituale, ma poi inizio a sentirmi a posto, a non vigilare più sul cuore, trascurando la preghiera, aprendomi a situazioni pericolose, ed ecco che pian piano il male entra. Vegliare serve a custodire se stessi ma anche gli altri. Cosa succederebbe se, ad esempio, un sacerdote non vegliasse, non solo sulla sua vita spirituale, ma anche sulle persone che il Signore gli ha affidato? Cosa succederebbe se un genitore non vegliasse sul figlio, sulla figlia e magari già da piccolo lo parcheggiasse come se nulla fosse davanti a tablet, computer, telefoni, se non vegliasse sulle sue amicizie? Così disse il cardinale Martini. Vigilare significa badare con amore a qualcuno, custodire con ogni cura qualcosa di molto prezioso, farsi presidio di valori importanti che sono delicati e fragili. Vigilare impegna a fare attenzione, a diventare perspicaci, a essere svegli nel capire ciò che accade, acuti nell'intuire la direzione degli eventi, preparati a fronteggiare l'emergenza. Vedete, mega rivegliare ci aiuta a combattere contro due pericoli spirituali molto seri, addormentarsi spiritualmente e vivere distrattamente. Il primo è addormentarsi spiritualmente ed è quello che proprio dice Gesù. Fate attenzione perché il padrone non torni e vi trovi addormentati. Ricorderete che nella passione di Gesù, quando lui si trova nel Gezzemani che prega, chiede ai discepoli di pregare con lui. Dopo un po' torna e li trova addormentati perché erano oppressi dalla tristezza, non stavano capendo, non riescono a mettersi nei panni di Gesù. Quante volte, miei cari, capita anche a noi. Ci addormentiamo spiritualmente perché non vogliamo accettare la realtà. Arroccati nelle nostre aspettative, interpretazioni, illusioni. Ci addormentiamo perché incapaci di ascoltare veramente chi abbiamo accanto, ripiegati dunque su noi stessi, magari nel nostro peccato, che ci spegne, ma in fondo ci piace. O perché semplicemente siamo stanchi, perché perseverare nel bene costa anche fatica. E tutto questo può portarci a un grave pericolo per la nostra anima, che si chiama acidia. È una forma di depressione, diciamo così, dovuta al rilassamento dell'ascesi, a un venire meno della vigilanza, alla mancata custodia del cuore. È una sorta di svogliatezza che porta a trascurare il bene, a procrastinare, a perdere tante belle occasioni. È uno dei sette vizi capitali perché alimentato dalla presunzione può condurre alla morte dell'anima. Ecco, miei cari, il Signore ci ricorda? Vegliate, il tuo quotidiano è prezioso, è vita che Dio ti ha affidato per compiere la tua missione in attesa del ritorno del tuo Signore. In secondo luogo, miei cari, la vigilanza serve a non disperderci in mille distrazioni. Pensate in semplicità a quanti incidenti accadono a causa della distrazione. Quante figuracce per la distrazione! Ma attenti, la distrazione è un tema più profondo di quello che sembra. In latino la parola distrazione viene dal verbo distraere, che significa fondamentalmente separare. Mentre il cammino cristiano di santificazione è un cammino di unificazione, mentre i santi li vediamo centrati veramente su Gesù, la distrazione ci porta alla dispersione. E dobbiamo tener conto che con la distrazione ci avremo sempre a che fare, a causa della nostra fragilità umana. La distrazione in sé non è colpevole, ma non va alimentata, va combattuta. Pensiamo ad esempio alla distrazione nella preghiera. La mente fatica a stare fissa su un pensiero e tende a divagare, per non parlare dell'effetto dei sensi, magari un suono o un rumore ti distoglie. La sfida è non alimentare la distrazione, ricentrandosi sul Signore. Ma quali sono le cause più remote di una vita distratta? Un ex generale dei Gesuiti, padre Adolfo Nicolás, scrisse un bel articolo dal quale cogliamo qualche spunto integrandolo. Il motivo più serio e più profondo delle nostre distrazioni è il nostro ego. La distrazione prende posto quando il focus della nostra mente e del nostro cuore è fuori posto. Tanto più sono preso da me stesso, tanto più sarò distratto dall'essenziale. Contradizioni e difficoltà, miei cari, fanno parte della vita, alcune sono anche molto serie. Ora, la persona spirituale vive questa esperienza con una grande libertà interiore, che lo porta a un'intimità più stretta con Dio e con piccoli che sono esperti nel soffrire. Coloro che sono meno spirituali le soffrono doppiamente e le vedono tutte come un complotto contro l'Io. Essi si sentono perseguitati e naturalmente perdono la pace interiore e la gioia. Essere concentrati sull'Io incompreso o ferito finisce per diventare una distrazione enorme. La psicologia moderna guarda con grande attenzione al fenomeno della preoccupazione esagerata per se stessi, per la propria immagine o per la percezione della gente. Qualcuno la chiama narcisismo. Un processo di questo tipo si verifica quando, nel prendere una decisione, non ci focalizziamo sulla volontà di Dio ma sull'opinione degli altri. La distrazione dell'Io è più forte quando la comunità o la relazione spirituale con la comunità si attenua o si esaurisce. Questo vale in particolare per i sacerdoti del presbiterio, una comunità religiosa, ma anche i laici con la propria comunità o anche semplicemente il contatto con la propria famiglia. Quando ci ripieghiamo su noi stessi tendiamo ad allontanarci dagli altri, finendo per fare un po' i battitori liberi. Sappiamo tutto noi, siamo i galli della situazione, salvo poi prendere bastonate e ritornare alla comunità per sperimentarne la protezione, la vicinanza. Un altro motivo di distrazione è l'essere inchiodati al ciò che piace, coltivando relazioni e piaceri carnali, egoistici. Penso quella cosa che mi piace, faccio soltanto quello che mi piace o non vedo l'ora di farlo, cercando di togliermi frettolosamente di torno quello che è meno gradito, perdendo di vista il fare ciò che a Dio piace, che mi realizza veramente. Strumenti che fanno leva su ciò sono anche le cose del mondo, la moda, la tecnologia. Quanta distrazione nelle famiglie ad esempio a causa di un cattivo uso dei cellulari, dei social. A volte fanno tenerezza anche persone grandi di età che mentre si è tutti insieme le vedi che si isolano con il loro cellulare in mano scorrendo qui e lì canali e social. A volte la distrazione viene anche dalle troppe attività e dai troppi stimoli ai quali ci sottoponiamo. Pensate ad esempio se andate ad una fiera piena di stand, di gente, si torna a casa esausti a causa della sovrastimolazione. Ecco, miei cari, la distrazione ha una matrice molto profonda. Ecco perché il Signore ci chiama a vegliare, a essere vigilanti, a ricentrarci su di Lui e sull'essenziale. Tutto questo sarà possibile, miei cari, riscoprendo la preghiera e anche lo spazio della meditazione. A cominciare dalla meditazione della parola del Buon Dio, ritrovando la connessione con Lui nell'arco della giornata, mettendo il cuore qui ed ora in ciò che il Signore mi sta chiedendo. Tutto questo, come ha detto Enzo Bianchi, generato e sostenuto da una speranza salda. C'è qualcuno che giunge, qualcuno che è alla porta, qualcuno che è amato, invocato, ardentemente desiderato, sta per venire. Non sappiamo quando, certamente all'improvviso. Per questo occorre non essere addormentati, ma restare vigilanti. Memori del semplice ma decisivo monito di un padre del deserto, Abba Poemen, che disse, non abbiamo bisogno di nient'altro che di uno spirito vigilante. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.